Dalla sicurezza dei 5 Paesi. Lo stesso Paese europeo. Non lo s'emergenza. Non è una rilevation. No, no! Si parla con un' winter. Securezza! E' un' två. In questo caso noi abbiamo la possibilità di vedere cosa sia la sicurezza dal punto di vista della percezione soggettiva, ma anche della rappresentazione di altri. Questo è quanto. Come vi dicevo, noi abbiamo cominciato questa impresa che è benissimo interessante nel 2005 e abbiamo trovato due fasi.